Nel giorno di San Valentino, dagli scavi affiora un legame eterno, Sant'Antonio. Due giovani affiancati, accuratamente composti nella stessa sepoltura, nella chiesa di Sant'Antonio, fuori le mura a Pile. Una nuova interessante testimonianza dal passato nelle tombe in corso di scavo nella chiesa. La notizia è stata data dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Aquila e Cratere. È di questi giorni, infatti, l'individuazione di una affascinante sepoltura simultanea di due giovani individui, un uomo e una donna di circa 20 anni, uno accanto all'altro, con i corpi accuratamente composti con le braccia incrociate sull'addome e i volti rivolti l'uno verso l'altro. Il rinvenimento si inquadra nell'indagine in corso nella chiesa di Sant'Antonio, fuori le mura a Pile, che accoglie altre sepolture individuate nello stesso contesto, databile presumibilmente fra il XIV e il XV secolo d.C. e in corso di studio, e testimonia un caso particolare di sepoltura dalla quale emerge un forte legame affettivo tra i due individui che va oltre la morte. Sulle testimonianze antropologiche sinora emerse e su quelle che verranno alla luce, anche nel proseguo dei lavori, la sovrintendenza attiverà delle indagini specifiche, finalizzate ad acquisire maggiori informazioni e dettagli, come l'età esatta degli individui ed eventualmente le cause della morte. Le indagini in corso sono seguite dall'archeologo Alessio Cordisco, sotto il coordinamento e la direzione scientifica della sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Aquila e Cratere. Si conferma ancora una volta, dice la sovrintendente Alessandra Vittorini, la ricchezza delle storie che emergono dai lavori di restauro e di ricostruzione della città, ricchezza che richiede ancora una volta la massima cura e attenzione necessarie per le indagini, gli studi scientifici, le misure di tutela e di valorizzazione.